Per Giulianova e Delfino è già l'ora delle conferme, il successo di entrambe alla prima giornata sotto verifica nello scontro del Fadini. Luciano Cerasi, rispetto a domenica scorsa, deve rinunciare alla Barba e Cappelli, arretra Maffioni, Nesca di Paolo Mezzala e Piazza Sisse a fianco ad Africani. Sul fronte opposto Bonati ha Paolillo in panca e gli preferisce Palmisano, in avanti Gobbo Massa e Di Giovacchino a servizio di Petrarulo. Con il supporto tecnico dell'infaticabile Maria Carannante andiamo agli highlights, inizio che vede i padroni di casa farsi subito pericolosi. L'intervento di calore sul tiro sotto misura di Persiani è assolutamente risolutivo. Ancora Giulianova al nono con Di Paolo, oggi esordiente nel torneo che prova il destro dalla distanza, lontana dallo specchio della porta alta sopra la traversa. Poi il Delfino prende in mano le redini del gioco per tutti i tratti della fase centrale del primo tempo. Al ventottesimo, iniziativa isolata da parte di Persiani che cerca la conclusione orizzontalmente. Sfera che attraverso tutto lo specchio e va in out di fondo. Gli ospiti però non trovano Varchi e allora è Marzucco il cui tiro di sinistro non potente ma insidioso avrebbe potuto sfavorire nel rimpallo Bonati. Finale di parziale giallorosso e occasionissima Sisse che non crede nemmeno lui alla possibilità di sparare in porta in maniera comoda ma spreca tutto mandando incredibilmente al lato. 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco e ripresa che si apre con il destro secco al nono di Persiani al lato dalla porta difesa da calore. La risposta del Delfino in controffensiva al minuto 23. Gobbo per Petarulo che prova il tiro a giro senza peraltro efficacia. Giulianova sicuramente più offensivo che trova le giuste misure tra le linee mancata nella prima frazione di gioco ed interessato alla ricerca del vantaggio nonostante i cambi e l'innesto di Africani però non si trova la giocata giusta. Delfino attentissimo sicuramente meglio nel primo tempo più sotto dopo. Il tiro di Cerasi al ventinovesimo fiacco sul quale calore non si fa sorprendere è il sintomo di come si faccia fatica ad offendere il portiere avversario. Poi al 45esimo il lancio delizioso di Lorenzo Giglio per Francesco Africani che viene fermato in maniera irregolata. Sibilli non ha alcuna esitazione di indicare il dischetto sul quale Vastisse che però si fa ipnotizzare da calore che respinge e nemmeno la ripresa di Maffioni risulta vincente. Dopo Vasto ancora un errore dal dischetto per il Giulianova ma stavolta costa tre punti e così il Delfino sentitamente ringrazia. Allora mister Bonatti meglio nel primo tempo ma nel secondo tempo avete sofferto ma avete portato a casa un ottimo punto. Sì sono d'accordo. Nel secondo tempo abbiamo subito tantissimo il Giulianova, i cambi e la nuova freschezza che ha messo il mister in squadra. Noi abbiamo un po' ritardato i cambi perché poi l'ultimo quarto ora, venti minuti, le partite si decidono e quindi eravamo forse meglio gli ultimi dieci minuti prima dell'episodio di rigore che è un episodio un po' a se stante perché la partita era praticamente finita e loro se avessero vinto non avrebbero rubato nulla. Noi il primo tempo probabilmente se azzecchiamo un paio di finalizzazioni, di rifiniture probabilmente possiamo anche andare avanti. Però il Giulianova ha fatto una grande partita e noi per contrastarlo abbiamo speso tante energie sia mentali che fisiche. La squadra mi ha anche un po' sorpreso per la maturità, per la capacità perché è vero che lo hanno i ragazzi però anche noi abbiamo solo quattro fuori quota in campo e abbiamo finito con sette ma avevamo 4,99 in campo e l'unico giocatore esperienza è Marzucco col portiere e si è visto che alla fine ci ha dato una grande mano. In ogni caso una squadra che non ha sorpreso perché comunque si sapeva che giocava così bene, ha giocato sempre palla a terra, ha cercato sempre la finalizzazione quando ha potuto in maniera tattica. Quindi ha legittimato alla fine questo pareggio al di là dell'episodio del calcio di rigore. Grazie, sono d'accordo perché secondo me la fortuna ti arriva anche quando magari hai costruito qualcosa durante la partita. Avevamo preparato due tipi di partite, una dove magari potevamo essere un po' più alla pari, poi ci siamo resi conto della prima azione della partita che tiravano a brutta aria perché c'era tanto entusiasmo, i ragazzi del Giulianova andavano, non era colpa nostra, non è stata una partenza sbagliata la nostra è stata un'ottima partenza da loro, ci siamo messi un po' diversamente, abbiamo sofferto insieme e come dice lei nel primo tempo siamo ripartiti tante volte verso sinistra bene e l'abbiamo fatto bene. Sono contento perché i ragazzi se lo meritano perché queste due squadre secondo me sono l'esempio del calcio in eccellenza dei giovani e dell'organizzazione in una certa maniera fatta di sorriso, di gente allo stadio, è stata una domenica per noi veramente bello. Allora mister, un primo tempo un po' così così, poi avete accorciato le distanze nella ripresa e avete fatto benissimo, peccato per il calcio di rigore. Sì, come ho detto prima diciamo che siamo stati abituati, forse un po' troppo bene precambionato, Coppa Italia, la prima però diciamo che la prestazione al primo tempo è stata molto tattica, loro si sono messi a 5, hanno capito subito che esternamente potevano avere dei problemi, vabbè, si sono messi a 5, quindi tatticamente un pochettino la partita è cambiata ma nonostante tutto siamo stati in partita sempre e secondo tempo abbiamo preso degli accorgimenti, abbiamo ridotto un pochettino le distanze diciamo che nonostante che loro secondo me è una bellissima squadra, diciamo che abbiamo giocato quasi, se mi posso permettere, quasi solo noi abbiamo sfiorato diverse volte delle situazioni e poi il rigore, purtroppo il rigore fa parte della partita io neanche ci penso, non ho mai detto a un mio giocatore, neanche una finale di scudetto che il rigore è una cosa fondamentale è sbagliato, punto e andiamo avanti. Abbiamo visto che qualcuno si è conteso alla battuta di questo calcio di rigore? Sì, chi ha subito il rigore era Africani, il secondo della lista era lui, quindi lui voleva tirarlo anche se il primo in questa settimana, in questa domenica era Sissè, quindi è giusto così, però niente di che è una voglia di farlo a farina, insomma, è comprensibile. Avete affrontato una signora squadra? Secondo me, io in settimana avevo chiesto a gente che diciamo ne sa di calcio e mi hanno detto questa è una squadra delle prime 5-6, vi posso confermare secondo me che questa è una bellissima squadra, ben messa in gambo con un allenatore che è tatticamente molto preparato eppure la squadra fisicamente e tecnicamente è un'ottima squadra, vi faccio i complimenti perché ho visto veramente una bella squadra.